E da lì, un disastro. Lui era nero. Ripeteva in continuazione una data in particolare, 11 ottobre. Quindi io lì capisco che lui ha preso il mio telefonino perché aveva i codici, aveva tutto, e ha trovato uno scambio di messaggi tra me e Alessia, dove Alessia si era sentita con questo ragazzo e si era messa d'accordo per prendere un caffè. Ma poi c'è stato quel caffè? Sì, certo. Vuoi leggermi quei messaggi? Quel messaggio fra te e Alessia? Sì. Devo prendere il telefono. Sì. 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 Sì.